I ragazzi hanno fatto secondo me una partita bellissima sotto tutti i punti di vista, almeno quello che è sembrato a me. Alla fine vogliamo vedere un pizzo di rammarico per due o tre occasioni importanti che abbiamo avuto, dove magari potevamo anche vincere la partita. Alla fine dunque recriminano gli uni e gli altri, in fondo è il bello del calcio, ognuno la partita la vede dall'angolazione che preferisce. I dati obiettivi sono che il Catania ha attaccato di più, ha creato più palle gol, il Lecce però ha retto bene ed è stato cinico al momento giusto. Zenga si affida al duo Plasmati-Paolucci sostenuti da Mascara in avanti, Beretta sceglie un 4-4-1-1 col solo tiri bocchi in attacco. L'avvio dei padroni di casa è scoppiettante nel primo quarto d'ora, Plasmati chiama Benussi all'intervento in angolo, poi palloni pericolosi in area e Lecce che si salva in affanno, dall'altra parte tiri bocchi manda un sinistro al lato. In chiusura di frazione la palla buona è per Stovini che, come testimoniano le immagini, non è un attaccante. Catania poi ancora più determinato al via della ripresa, la botta di Paolucci scheggia il palo esterno, poi ancora il centroavanti si fa intrappolare il tiro cross dal portiere. I rossazzurri passano al quindicesimo, Paolucci raccoglie un pallone in area e angola il sinistro quanto serve, 1-0. Ed ecco la reazione giallorossa, Beretta mette dentro Castiglio per il trequartista Giacomazzi ed è quasi record, appena una manciata di secondi e il nuovo entrato in fila dalla distanza Bisarri. A questo punto Zengale prova tutte in campo tedesco e Isco nella speranza di un cross buono da sfruttare in mezzo. Paolucci impegna Benussi, poi il vano assalto fino alla fine. Per gli Etnei, sei vittorie su sette in casa e una sconfitta, oggi primo pareggio e classifica, comunque sempre lusinghiera. Il Lecce interrompe la serie nera e si rimette in...